Dico i tre compiti di Conte, visto che ci ho parlato. Aveva tre compiti scritti. In due anni porta lo scudo. Aumenta il valore di questa rosa e cambia la mentalità. Tutto, tutto compiuto. Cosa vuoi di più? Ha la miglior difesa. Annulla il gap con la Juve. Tu ti sei dimenticato della Juventus. Monarca, ma guarda che dominavano. Sono venuti a Milano, io c'ero con Conte. Non posso negare, ci hanno dominato. Non esiste che una società come l'Inter, sulla gli obiettivi, non ci sia quello di passare il girone di Champions. E quello Conte lo ha fatto in malo modo.